A distanza di un mese da quando si è decisi di scendere in campo, come stanno le cose e qual è il pensiero e il futuro di noi moderati? Abbiamo una coesione incredibilmente forte in Abruzzo di tutti i moderati. Noi abbiamo detto che senza i moderati non c'è il centro-destra, soprattutto in questa regione. Abbiamo avviato una stagione importante per la presenza dei cattolici democratici, liberali, ex-democristiani, cioè tutti quelli che appartengono ad un ambito della politica che è fatta di concretezza ma è fatta anche di solidarietà e di rapporto con tutti. Inizia ovviamente questa stagione che dovrà avere ovviamente la parte migliore con le elezioni regionali. candidati di qualità, giovani, che appartengono a tutte le esperienze non solo professionali ma politiche e associative. Ed ecco qui, insomma, chiediamo agli abruzzesi un voto ragionato e convinto e soprattutto chiediamo a chi non ha ancora deciso di votare per chi votare, di fare un passo assieme per cambiare e cambiare meglio. Per come siamo partiti e per come abbiamo trovato questa coesione diciamo che per noi è importante esserci. Ci siamo, c'è stato un riconoscimento da parte della coalizione, è chiaro che adesso il nostro sforzo è quello di avere un risultato tangibile. Logicamente il 3% è un obiettivo perché ci consentirebbe di eleggere nelle liste proporzionali della Camera una pattuglia di nostri rappresentanti ma comunque insomma il nostro obiettivo è quello di segnare una presenza. E noi pensiamo che in Abruzzo possiamo anche, abbiamo l'ambizione di superarlo questo 3%. Come possono coesistere anche queste due realtà, quelle di Salvini e Meloni con quella dei moderati? È inutile nascondersi che alcune posizioni della Lega e dei Fratelli d'Italia sono lontane dal nostro pensiero però è questa la logica della coalizione e della logica della parte maggioritaria di questa legge elettorale che nel centro-destra si è cambiato con l'arrivo anche del populismo, naturalmente si è spostata più su posizioni populiste. Noi pensiamo di rappresentare appunto un'area più pacata di saggezza, di elaborazione della politica, di analisi e crediamo che abbiamo la forza per far sentire questa voce.